in ogni caso una zucca pelata per questa notte un poco stregata e una candela la illumini dentro bella dritta proprio nel centro tanti fantasmi verranno alla porta con gli occhi tondi e la castorta e di sicuro vorranno un dolcetto con la minaccia di uno scherzetto buon anno a tutti